All'alba di ieri a Mercato San Severino i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno con il supporto aereo del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano Faiano hanno arrestato il latitante Luigi Coppola e due complici tutti di Mercato San Severino. Al primo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emissa lo scorso 17 marzo dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia in quanto indagato per associazione di tipo mafioso, detenzione, porto illegale di armi e munizioni, molteplici e altri reati in prevalenza di carattere estorsivo con l'aggravante del metodo mafioso. Gli altri due complici tratti in arresto merito e moglie incensurati sono stati arrestati in flagranza poiché ritenuti responsabili di favoreggiamento personale. Luigi Coppola si era reso irreperibile in occasione del blitz eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Salerno lo scorso 24 marzo durante il quale erano state arrestate 32 persone nel corso di un'operazione scaturita da una complessa indagine avviata nel settembre del 2014 e condotta dal nucleo investigativo del citato comando provinciale della compagnia di Mercato San Severino che aveva sgominato gli assetti della criminalità organizzata nell'area nord della provincia di Salerno, in particolare nell'agronocerino sarnese dove era stata accertata l'esistenza e l'operatività di un sodalizio criminale con base operativa nei comuni della valle dell'Irno promosso, organizzato e capeggiato da persone contigue al clan Fezza Dauri a Petrosino di Pagani. Nei giorni successivi all'operazione il nucleo investigativo avviò un'attività di indagine finalizzata alla ricerca di Luigi Coppola sfuggito alla cattura indagine condotta con accurati e prolungati servizi di osservazione, controllo e impedinamento. Nel giro di poche settimane i militari sono riusciti a localizzare l'uomo che aveva trovato riparo nell'abitazione dei due coniugi sanseverinesi. Così all'alba di ieri è scattato il blitz con l'impiego di decine di carabinieri supportati da un elicottero dell'arma. Dopo aver cinturato la zona i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione in alcuni casolari attivi e proprio in uno di questi, utilizzato come il deposito di attrezzi agricoli e foraggio per il bestiame, gli uomini dell'arma hanno trovato Luigi Coppola che prima di essere catturato ha anche tentato di fuggire attraverso una botola che conduceva ad un sentiero, venendo subito bloccato dagli altri militari che avevano cinturato tutta la zona. Oltre che per il latitante le manette sono scattate anche per i due coniugi proprietari dell'abitazione responsabili di aver favorito la latitanza del 58enne. Grazie a tutti.